L'aggiornamento sui casi di contagio da coronavirus in Sicilia. Creati 23 posti di terapia intensiva a pressione negativa ad Agrigento e provincia. I dettagli e le opere nitinere. I casi di contagiati da coronavirus in Sicilia sono 1.647. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 15.634. Sono risultati positivi 1.647, 92 più di lunedì 30 marzo. Attualmente sono ancora contagiate 1.492 persone, 84 più di lunedì 30 marzo. Sono ricoverati 575 pazienti, di cui 72 in terapia intensiva. E 917 sono in isolamento domiciliare, poi 74 guariti e 81 deceduti. Ecco la divisione degli attuali positivi nelle varie province. Agrigento 91 positivi, 0 ricoverati, 2 guariti, 1 deceduto. Caltanissetta 62 positivi, 18 ricoverati, 4 guariti, 4 deceduti. Catania 453 positivi, 150 ricoverati, 16 guariti, 29 deceduti. Enna 191 positivi, 120 ricoverati, 1 guarito, 11 deceduti. Messina 283 positivi, 128 ricoverati, 10 guariti, 18 deceduti. Palermo 236 positivi, 87 ricoverati, 17 guariti, 9 deceduti. Ragusa 38 positivi, 10 ricoverati, 3 guariti, 2 deceduti. Siracusa 66 positivi, 36 ricoverati, 21 guariti, 6 deceduti. Trapani 72 positivi, 26 ricoverati, 0 guariti, 1 deceduto. Nel frattempo, nell'ambito dello stato d'attuazione degli interventi in emergenza Covid-19, l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, coordinata dal direttore generale Alessandro Mazzarra e dal direttore sanitario Gaetano Mancuso, ha finora concretizzato, nell'arco di poco tempo a disposizione, 23 posti di terapia intensiva. E si tratta di postazioni tutte a pressione negativa, che, sottolinea il direttore Mazzarra, Agrigento e la sua provincia non hanno mai avuto. Dunque, all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, 12 posti di terapia intensiva, nella cosiddetta recovery room, con isolamento dell'aria e azione delle stanze di agenza Covid-19 alla terzo piano e con il percorso separato, come ribadito anche in occasione del recente incontro Sanità Ruggero Razza. Inoltre, l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha presentato una certificazione della ditta che si occupa degli impianti di climatizzazione, garantendo che la reazione del reparto è indipendente. E poi, ancora, all'ospedale Fratelli Parlapiano di Rivera sono in creazione 10 posti di terapia intensiva, all'accomplesso operatorio del primo piano. Il completamento è previsto entro il 4 aprile. Poi, all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, 10 posti di terapia intensiva nel reparto di rianimazione. Poi, all'ospedale Varone Lombardo di Canicattì, sono in creazione 6 posti di terapia intensiva nel reparto di rianimazione entro il 2 aprile. Poi, all'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata, 6 posti di terapia intensiva nel complesso operatorio. Attenzione! Mancano i ventilatori polmonari, ma sono attesi a breve termine dalla Protezione Civile Nazionale per tramite dell'assessorato regionale alla sanità.